La pioggia è stata veramente tanta, del resto erano ormai mesi che non pioveva, quindi il terreno era molto secco. La pioggia è stata tanta, è stata anche violenta. L'emergenza più grossa l'abbiamo avuto lungo la strada statale, subito sotto la scuola di Villa Caprile, dove una parte del terreno è scivolato sulla strada, ma purtroppo l'acqua piena di terra, oltre a raggiungere le case poste sul lato opposto della statale, hanno anche invaso alcuni scantinati di pieni terra lungo via Bologna. Dopodiché i problemi più grossi li abbiamo avuto lungo i vari sottopassi della città, da quello di San Decenzio a quello di Loreto, a quello di Via Milano, un po' tutti i sottopassi sono stati allagati. Ci sono state segnalazioni di allagamenti un po' diffusi in tutta la città, sicuramente avremo molto da fare, convocherò per i primi di settembre anche un incontro con chi si deve occupare della pulizia delle caditoie, perché le caditoie devono rimanere pulite, è importante che siano pulite, mi dicono che molto è stato fatto, però ci sono interi quartieri della città dove le caditoie sicuramente non sono come dovrebbero essere. Ci sono stati allagamenti, ma come dire, situazioni particolarmente gravi, per fortuna non le abbiamo registrate. Quando parlo di situazioni particolarmente gravi mi riferisco a fossi o comunque fiumi che esondono, o con persone che si sono trovati in condizioni pericolose per la propria incolumità. Quindi abbiamo risposto, già dalle 5 di questa mattina tutti erano operativi, e devo dire che è andata bene. L'andare bene però lo voglio anche legare a tutta una serie di interventi che abbiamo messo in campo in questi ultimi mesi, che sicuramente non sono sufficienti, ma che vedranno l'amministrazione anche nei prossimi mesi continuare a investire sia sulla sicurezza del territorio, ma ripeto anche sul fatto che le caditoie debbano essere pulite e bisogna sicuramente fare molto di più in questa direzione. Grazie.